Oggi da Stockhouse Milano presentiamo il OneTouch 995, il nuovo prodotto Alcatel che uscirà a fine aprile e inizio maggio. Abbiamo avuto questa occasione per presentarlo al grande pubblico. È il nostro top di gamma, è uno smartphone 4,3 pollici con fotocamera 5 megapixel e flash incluso, inoltre ha la possibilità di eseguire dei video in HD e un'altra caratteristica che pochi smartphone hanno in questo momento è quella di avere l'uscita HDMI all'attacco alla TV. Al momento supporta l'Android 2.3 con una interfaccia dedicata, un MTS ovviamente